Una giovane proposta, una ragazza che ha una voce splendida, a 25 anni, canta un brano di Pistarini con Rado, accompagnata dalla chitarra da Mariano Perrella, a te l'onore? Isabella Alfano in Anderichichè! Applauso! Pistarini con Rado Pistarini con Rado, a te l'onore? 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 a parlare se sento una voce che canta giù nella via Maria Maria che campi a fuori il tempo se ne va ma vede che c'è è solo una roba mia che soffiga bene a mell'anni ma io la fa a me di colare in Aquila che ha chiuso le albe sta tranquilla un po' sta tranquilla un po' a me di colare a me di colare a me di colare a me di colare a me di colare